La pecora Sean e il suo grecce conoscono ogni trucco quando si tratta di divertirsi. Ma le cose possono sfuggire di mano, all'aspetto. Per riunire la famiglia, avranno bisogno di un po' di testa e di tanto lavoro di squadra. Per rimanere fuori dai guai, dovranno pensare in fretta. Stupire! Hardman Animations e creatori di Wallace & Gromit e Galline in Fuga presentano... Una strabiliante Fuga in Città! Sean, vita da pecora, il film. Pasquale al cinema!